Cento anni di presenza passionista in Rio de Janeiro. Con gratitudine, profezia e speranza, la parrocchia di San Giuseppe e Nostra Signora dei Dolori, situata nel quartiere di Andarai, a Rio de Janeiro, R.J., ha celebrato l'apertura solenne della commemorazione dei cento anni di presenza passionista nella città. La Santa Messa è stata presieduta da Sua Eccellenza Monsignore Domorani Geau Tempesta, o punto cist, arcivescovo e cardinale di Rio de Janeiro, e concelebrata dal Superiore Provinciale dei Passionisti, Pileo de Saparecido de Paula, C.P. e altri relio-giosi sacerdoti, clero locale e con la partecipazione del Popolo di Dio. La cerimonia si è svolta sabato 16 settembre EU-2023 ed è stata trasmessa su Rede Vida de Televisao e sui social network. Nella sua omelia, l'arcivescovo ha sottolinea e tu l'importanza della spiritualità passionista per la vita della Chiesa. Ha fatto memoria storica dei primi missionari e del loro contributo allo sviluppo umano, sociale e religioso della comunità. Ha anche pregato affinché durante le celebrazioni di questo centenario si rinnovi il carisma e si accresca ulteriormente la collaborazione apostolica. Nell'arcidiocesi e nel mondo. Domorani ha concluso sottolineando l'importanza della comunità formativa, della tappa teologica, della presenza nel territorio arcidiocesano e ha pregato per i futuri nuovi sacerdoti religiosi. In segno di gratitudine, il superiore provinciale, padre Leudes Aparecido, ha ricordato che la congregazione passionista ha recentemente celebrato i 300 anni della sua fondazione e della sua storia nella vita della Chiesa. Per lui, parte di questa grande celebrazione è dedicata anche ai cento anni di storia del lavoro apostolico dei passionisti nell'arcidiocesi di Rio de Janeiro. Il superiore ha ringraziato l'arcidiocesi, oggi amministrata da sua eminenza Domorani, per aver accolto cento anni fa i pionieri di questa grande missione e ha anche sottolineato, come forma di gratitudine, l'affetto e il sostegno dei laici e dei devoti della comunità. La commemorazione del centenario dei passionisti a Rio de Janeiro è occasione non solo di festa, ma anche di preghiera. Con lo sguardo fisso sulla croce di Cristo, cerchiamo di scoprire la speranza manifestata nell'amore di Dio attraverso la passione di suo figlio. Chiediamo quindi al nostro Santo Padre, San Paolo della Croce, la grazia di rinnovare la nostra missione con gratitudine, profezia e speranza. La nostra gratitudine ai pionieri di questa missione per aver gettato i primi semi di questo fruttuoso apostolato. Possano i religiosi contemporanei, alla luce della passione di Gesù Cristo, affrontare profeticamente i mali di oggi e annunciare il Dio della vita e della compassione. Ancorati nella speranza, possiamo ricordare la passione di Gesù Cristo con il nostro modo di essere e di agire nel mondo.